Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Top 5. Sono Luna e oggi voglio portarvi alla scoperta delle 5 attrazioni perfette da vivere in famiglia. Siete pronti? Siamo a Moodyland, il parco del cinema di Caneva World Resort. E cosa c'è di più bello se non il divertimento in famiglia? Qui grandi e piccini possono provare le stesse attrazioni e vivere esperienze uniche e memorabili. Oggi vi presento le attrazioni ideali da fare in famiglia, quelle perfette per tutti i palati, dai più grandi ai più piccoli. Siete pronti per questa Top 5? Prima destinazione Magma, una delle attrazioni storiche di Moodyland e sempre una delle più gettonate. Un viaggio avventuroso alla scoperta di una centrale geotermica del Sud America a bordo di questi enormi camion. Ah già, dimenticavo di dirvi che non tutto andrà esattamente come previsto, ma si sa, in ogni fin d'azione c'è sempre un momento di suspense. Il tema spazio per tutta la famiglia lo possiamo trovare a Space Ranger, una delle attrazioni più divertenti del parco. Qui possiamo fare delle fantastiche battaglie a colpi di laser a bordo di queste coloratissime navicelle spaziali. Con queste leveste possiamo controllare la navicella. Ma attenzione perché chi verrà colpito dal laser finirà così! Aiuto! Avete visto cosa c'è lì dietro? Ora vi porterò a scoprire un'attrazione unica al mondo. Infatti c'è solo a Moodyland. Avete mai pensato come sarebbe fare un safari all'interno di una foresta piena di dinosauri? A Moodyland c'è una jeep pronta a farvi fare un salto nel tempo. Quello che ancora non vi ho detto è che il fuoristrada lo guiderete voi? Quindi preparate il team perché tutti avranno un ruolo. Chi guida, chi farà da navigatore e chi dovrà identificare i dinosauri lungo il percorso accidentato. Wow che esperienza da fare e ripare un sacco di volte! Intanto mi prendo questo come ricordo. Risate farima con spruzzi d'acqua. Se aggiungiamo un tronco che sfreccia tra le rapide di un torrente in un'ambientazione che sembra essere appena uscita da un fumetto preistorico, beh abbiamo tutti gli ingredienti per un divertimento top. Questo è Troncosaurus. E per continuare il divertimento facciamo un salto al Cinema Metropole proprio all'ingresso del parco lungo la bellissima Main Street. Non fatevi ingannare però. L'ingresso può sembrare quello di un teatro d'altri tempi, ma all'interno troverete uno spassosissimo cinema 4D. Un'avventura west plena di gag e di imprevisti! Ma cos'è quella? Una cascata? Che divertimento! Avete visto quante attrazioni potete fare qui a Moogland con la vostra famiglia? Quale sarà il tema della prossima top 5? Io vi aspetto qui al Caneva World Resort!